Incidente nel pomeriggio sulla 389 prima della galleria per Mamogliada. Sono rimasti coinvolti due furgoni, uno con a bordo dei turisti svizzeri, il secondo condotto da un uomo di Ololai che ha subito le conseguenze peggiori ed è stato ricoverato in codice giallo nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e il 118 che hanno soccorso i passeggeri coinvolti nel sinistro. Il traffico è stato regolato dalle forze dell'ordine.